buongiorno benvenuti alla lezione di scienza medie sugli ecosistemi cosa significa ecosistema ecosistema una parola composta da due termini greci dalla prima che eco che oikos significa casa in questo caso prende un valore di ambiente naturale l'altra è sistema che significa riunione che è un complesso di elementi collegati tra loro per qualche relazione e in questo caso la relazione di tipo organico vediamo la trecani cosa ci suggerisce insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia in un'area delimitata per esempio un lago un prato un bosco ma per semplificare un pochettino si potrebbe dire che un ecosistema è l'insieme dei fattori viventi biotici e fattori non viventi abiotici presenti in una certa zona io confuso e vabbè vediamo di che cosa si tratta effettivamente partiamo dalla biosfera vi ricordate le sfere terrestri l'atmosfera la litosfera l'idrosfera la biosfera è l'insieme di tutti gli ecosistemi e non solo la biosfera interagisce con le altre sfere creando delle trasformazioni su di esse con uno scambio di energia e di materia tra l'altro la biosfera si estende dai profondo degli abissi fino a qualche chilometro nell'aria nell'atmosfera proprio per la presenza dei volatili vediamo che cos'è la struttura di un ecosistema cioè come strutturato alla base ci sono gli individui cioè gli individui sono proprio ad esempio un leone da solo un individuo di una specie se invece gli individui si costituiscono come nel caso del leone in branchi avremo la popolazione di più individui quindi sarà definita una popolazione più popolazione in questo caso gli elefanti cinghiali giraffe zebbre leoni sono un insieme di organismi costituiscono la comunità a questo punto le comunità inserite all'interno del loro habitat cioè l'ambiente sono un vero ecosistema vi ricordo che esistono anche gli uccelli volatili quindi un ecosistema individuano due tipi di fattori i fattori viventi biotici e badiamo bene dobbiamo includere anche la flora e quelli invece degli organismi viventi degli animali e quindi regno degli animali e quindi la fauna tutti insieme sia la flora che la fauna costituiscono i fattori biotici quelli viventi di un ecosistema e i fattori non viventi quelli abiotici inizialmente vediamo quale ecco il sole il sole è il primo dei fattori anche perché è colui che apporta energia all'ecosistema e come la porta sotto forma di luce e di calore questa forma di calore di luce viene poi trasferita agli elementi fisici alla materia al suolo al sottosuolo le rocce l'acqua marina l'aria il clima basti pensare a come l'energia del sole il calore sviluppato dal sole faccia evaporare le acque degli oceani tra crei le nuvole le quali restituiscono sotto forma di pioggia la stessa acqua che andrà a real alimentare gli oceani piuttosto che laghi piuttosto che ghiacciai se sotto forma di neve ecco tutti insieme questi fattori inanimati costituiscono l'habitat quindi un ecosistema è l'insieme dei fattori viventi biotici e dei fattori non viventi abiotici presenti in una certa zona adesso forse un po più chiaro nel loro ecosistema gli organismi producono adattamenti vediamo di che cosa si tratta ci sono tre tipi di adattamenti il primo è quello dei comportamenti ovvero possono avvenire tramite struttura del corpo oppure per il loro comportamento in questo caso vediamo come gli animali meno aggressivi vengono diciamo vinti o comunque allontanati dagli animali che sono predatori o semplicemente più forti da un punto di vista proprio della struttura del corpo un altro modo di adattamento è l'evoluzione questo lo conosciamo tutti si tratta della selezione della specie di darwin e cioè l'esempio della giraffa tra le giraffe che avevano il collo un po più lungo rispetto a quelle che avevano un collo più corto si sono salvate proprio quelle le prime perché riuscivano ad arrivare nei periodi di siccità ad alberi un po più alti e quindi le prime che hanno sviluppato il collo un po più alto si sono salvate e hanno automaticamente selezionato tra le giraffe quelle che avevano il collo più lungo questo fenomeno è andato avanti per migliaia di anni fino a quando si sono sempre salvate le giraffe che nascevano col collo un po più lungo mentre le altre erano destinate all'estinzione ecco la selezione della specie di darwin il terzo modo di adattamento il mimetismo ad esempio il pelo del leone nel caso della savana è esattamente mimetico con il colore della savana questo gli permette di poter arrivare in maniera nascosta a aggredire la propria preda il mimetismo tra l'altro il sistema più diffuso di adattamento se pensi al polpo il polpo in grado di prendere non solo i colori delle rocce su cui si posa ma anche proprio la stessa forma oppure quanti insetti sono verdi per poter nascondersi sulla nella vegetazione ed evitare di essere visti dai predatori ci sono anche le interazioni delle comunità all'interno di un ecosistema e vediamole sono tre tra l'altro le interazioni la prima la predazione e si verifica quando una specie si nutre di un'altra penso che tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando il leone mangia le sue prede la seconda è la simbiosi quando un animale una specie vive all'interno o sul corpo di un'altra in questo caso vediamo dei parassiti che infettano una pianta e una coccinella che cibandosene li fa scappare in qualche modo o comunque mantiene pulita la pianta e permette a quest'ultima di crescere di svilupparsi l'ultimo dei delle interazioni tra le comunità e la competizione cioè quando due popolazioni utilizzano la stessa risorsa in questo caso abbiamo un leone che si beveva una pozza d'acqua non la può se la stazza di un elefante decide che è il momento in cui lui debba appeverarsi quindi vedete come c'è la competizione proprio per procurarsi le risorse nel caso della predazione soltanto in questo si crea una cosa particolare la corsa agli adattamenti cioè i predatori svilupperanno mimetismi non svilupperanno ma come per il collo delle girafe si autoselezioneranno quelli che hanno il pelo che si è più mimetico e quelli che hanno le zanne che gli permettono zanne artigli che gli permettono di cacciare invece poco rimane alle prede e perché rimane soltanto o il mimetismo o comunque la corsa quindi l'ecologia è la scienza che studia gli ecosistemi e le interazioni tra i suoi fattori in più aggiungiamo anche il concetto dei biomi i biomi li vedremo nella prossima lezione quindi che cosa abbiamo visto oggi beh l'ecologia dal greco dalle due parole greche oikos vuol dire sistema vuol dire ambiente naturale e le sue relazioni organiche la biosfera che è l'insieme di tutti gli ecosistemi e che in particolare che ricordiamo che vengono gli scambi tra energia e materia la struttura delle degli ecosistemi cioè l'individuo popolazioni comunità ecosistema abbiamo poi visto che ci sono fattori biotici e fattori abiotici e abbiamo visto la definizione di ecosistema che è l'insieme dei fattori biotici e abiotici presenti in una certa zona nonché gli adattamenti che ogni organismo sviluppa all'interno di un ecosistema e le interazioni delle comunità che avvengono sempre all'interno di un ecosistema inoltre abbiamo visto che l'ecologia è la scienza che studia gli ecosistemi e i biomi e le loro iterazioni mentre i biomi sono le macro regioni di ecosistemi riconoscibili sulla terra e vi anticipo che in tutto sono nuove e che vedremo nella prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti